Cambia la logica di progettazione nell'ambito del settore turistico, nei 5 comuni Iblei che fanno parte del GAL Terra Barocca. Ieri a Modica il primo appuntamento delle 5 sessioni in brainstorming, che permettono ai privati di offrire il proprio contributo in termini di idee, andarono a migliorare e innovare la progettualità di enti pubblici, che hanno aderito al bando 7.5 del GAL per il miglioramento dei servizi turistici sul territorio attraverso un investimento totale di 1 milione di euro nell'ambito del PSR Sicilia 2014-2020. I 5 comuni Modica, Ragusa, Ispica, Scicli e Santa Croce e Camerina hanno invitato i rappresentanti di più famiglie professionali, imprenditori e gli artigiani del commercio, i referenti del settore alberghiero, coloro che si occupano dei servizi per il turismo, gli operatori dei servizi culturali e museali, gli imprenditori del settore agricolo. Con loro, alla presenza del facilitatore Nicola Cerpelloni e dei vertici del GAL, è iniziato il confronto attraverso gruppi di lavoro che hanno individuato i punti di forza, le criticità, le opportunità e i miglioramenti da attuare. Con questi fondi i comuni andranno a creare piccole strutture per l'accoglienza turistica, così come si potranno ristrutturare immobili pubblici da destinare a servizi o attività collettive turistiche, artistiche e culturali, educative e naturalistiche. Il contributo è erogato al 100% al fondo perduto, la gestione sarà affidata a privati. Avere l'idea da parte dei comuni e riempire il contenitore sull'idea dei comuni con delle idee innovative da parte dei privati, ma anche andando a vedere quali sono anche le criticità e i punti di debolezza che l'idea imprenditoriale che ha il comune, che magari non vede perché magari è lontano dalle esigenze di chi ci lavora tutti i giorni, noi con questo tipo di lavoro, di aula, abbiamo voluto avvicinare il pubblico e il privato, cioè le esigenze del privato con le esigenze del pubblico. Il termine accoglienza in questo caso è proprio centrale, infatti la sottomisura 7.5 finanzia, a vantaggio dei comuni però con l'obbligo di metterlo a disposizione dei privati, quindi con un altro bando, successivamente in concessione, la costruzione e la ristrutturazione dei punti in cui si può svolgere il servizio di accoglienza dei turisti e oltre all'accoglienza ovviamente sarà possibile cedere e vendere da altri servizi. È un territorio molto apprezzato culturalmente dal punto di vista dell'ernogastronomia, i turisti che vengono qui sono anche molto spesso preparati a superare le difficoltà che ci sono a livello infrastrutturale, questo non significa ovviamente che non ci si debba lavorare su questo, in questo senso le misure del GAL cercano proprio di colmare questo tipo di deficit.